Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, tu sono Mr. Margie, siamo qui con l'apertura del... non si vedrà mai, infatti non si Con l'apertura del Megabox dello Splash Anomalo GX con Magikarp e Wailord GX alleati Ci sono 4 pacchetti che andremo ad aprire insieme e vedremo se succederà come l'ultima volta Nidoran e WOOOOOOOH Questa volta è successo un casino Possiamo andare avanti Andiamo a spacchettare in questo modo, prima di tutto apriamo il pacco Qui ci sono rimasti incastrati la carta alleati Molto bella sinceramente, devo stare mezzo piegato per farvela vedere bene ma... Ci sta come carta, ci sta e andiamo a prenderci i 4... un codice Molto inquietante, andiamo a riprenderci i 4 pacchetti che adesso apriremo e poi sfidiamo la mega carta... un po'... un po' storta... molto bella, adesso leggeremo gli effetti a fine video, prima di tutto andiamo ad aprire questi 4 pacchetti che sono sole luna, guardia i nascenti, tuoni perduti, terpesta astrale che non ho mai finito, non volevo finire però... E poi i tuoni perduti, tuoni perduti non so nemmeno se ho mai aperto un pacchetto... Vabbè, lasciamo tempesta astrale per ultimo perché è quella in cui confido di più e iniziamo da quella che non ho mai aperto, tuoni perduti, di cui abbiamo due pacchetti con la stessa artwork... quindi... il codice e andiamo a fare il nostro trick... Allora, spero sia ancora 1, 2, 3, 4, 1, 2... probabilmente ho sbagliato, io non sento nulla, quindi non ci sarà nulla sicuro... Allora, vediamo un po'... abbiamo un Larguita... Tangera... Ninkada... abbiamo un Chinchou... Marip... ho sbagliato il trick... Energia tipo Folletto... Delibird... Cascun... Mixer perduto... e poi abbiamo Magearna... Shininge... Magearna... dove si è reverso? Non mi ricordo più ormai... Pacchetto come avevo precedentemente previsto in UTS... Non mi sembra di aver visto nulla nemmeno qui, andiamo a riporre il codice e facciamo un trick, questa volta proviamo a farlo giusto, credo che sia stavolta 4, 1... 1, 2, 3... 4... Ho sbagliato il trick... 1, 2... proviamola così... Oh... ragazzi... c'è qualcosa... tuoni perduti sta iniziando a piacermi... sta iniziando a piacermi... Abbiamo Chikorita... Poi abbiamo Nafu... Aundur... Diglett di Alola... Trico... Poi è tanto il trick... Energia tipo Psico... Pinsir... Energia Memoria... E poi... credo che siano le ultime due carte... Abbiamo un Kecleon... E per ultima carta... Ho sbagliato... E per ultima carta... Abbiamo... Non ci credo... Non è possibile... Addios... 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 Secondo pacchetto... Rimbocchiamoci le maniche... Genesect GX... Ok... 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 No ve lo dico... Sto esplodendo dalla recitazione... Genesect GX Hyper... Sfondamento dei phase... 190... 190... Con sole 3 energie... 190... I danni di questo attacco... Non sono influenzati da resistenza... E poi... Non puoi usare più di un attacco GX... Non lo so... Credo di trovarla... In Tempesta astrale... Lighter... Si... Ci riesco... Sto... Cosa sono fatti sti pacchetti... Marmo... Ho spaccato il pacchetto... Guardia dei nascenti... Piuttosto vecchia è questa collezione... Questo era 4-1, credo 1, 2, 3, 4, 1 e 2 Sì, non c'è nulla in sto pacchetto Patrat Litwick Pancham Snorant Castform Energia tipo Folletto Sbettiamo? Altare Lunare Ibis Mi pare che l'avevano trovato a Full Art in un video Allora, che video Altare Solare Ancora Snorant, ma stavolta Olobar Reverse, ma da quello che volete voi Wailord Ah, abbiamo trovato Wailord Perfetto ragazzi, abbiamo trovato Wailord Ne abbiamo abbastanza per oggi di Wailord Andiamo a fare il trick 1, 2, 3, 4, 1 E no Vabbè Onyx Sneasel Begon Baltoi Beldu Ancora, energia Folletto 3 su 4, energia Folletto Adios Vigoros Nassif Friendball No Friendball E poi credo che ci sia l'ultima carta Che è Torqual Stai scherzando? E siamo a 4 Torqual Olografico Reverse Sentite ragazzi, basta Ci minuccio Andiamo a fare un resoconto delle carte più rare che abbiamo trovato Non comprendo le carte anche reverse Abbiamo trovato intanto Magarmu Sentite Lasciate stare Dunque Poi abbiamo trovato Wailord Di Tempesta astrale Con 220 di vita E onda evanescente da 200 Meno Poi Abbiamo trovato un altro Wailord Solo che questo è un po' più deboluccio 200 di vita Fa sub con 40 di danno E mare aperto con 80 Poi Andiamo a trovare Andiamo al top del top Questa qui non l'abbiamo trovata Insomma Era in stock Diciamo Magikarp E Wailord GX Comunque buono per la collezione 300 di vita Ed è già tantissimo E poi abbiamo Super Splash Che fa 180 di danno Però 5 energie acqua Insomma Non è molto Insomma Non conviene molto Anche se comunque è una carta alleati Quindi necessita di più energie Poi abbiamo un'energia col più Quindi credo che non ci muoiano di più Per ogni attacco Beh leggiamo ora Splash anomalo GX 10 danno base Allora se questo Pokémon Ha almeno 7 energie 7 7 energie acqua extra Segnate in aggiunta A quelle del costo di questo attacco Questo attacco Infligge 100 danni A ciascun Pokémon Nella panchina Del tuo avversario Ricorda che non puoi applicare Debolezza e resistenza Di Pokémon che in panchina E poi abbiamo Il top Abbiamo qui Genesect GX Hyper Signori Genesect GX Hyper 180 di vita E già qui Vabbè E poi abbiamo Doppio modulo Che questo Pokémon Può avere fino a 2 carte Oggetto Pokémon assegnate Se perde questa abilità Scarta le carte Oggetto Pokémon assegnate Gli finché non ne resta Solo una Ok Poi abbiamo Colpo esplosivo 130 Con 3 energie E già qui Ok E poi abbiamo Sempre con le stesse 3 energie Sfondamento Difese GX 190 di danno Purtroppo però Si può usare Solo una volta A partita I danni di questo attacco Non sono influenzati Dalla resistenza Non puoi usare Più di un attacco GX A partita Quindi Non è molto utile Temere Molte carte GX Per la loro abilità GX Perché O ne usi una O basta Ok Mettiamo tutto insieme Rimettiamo tutte le carte Insieme Ditemi Se volete che io porti Lo spacchettamento In versione online Sicuramente troverò di più Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Qua sotto Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi